Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo video riguardante il Nexion, piccolo display che abbiamo visto già, questa è la quinta puntata che faccio per registro sul Nexion, e oggi vorrei realizzare una plancia di comando ancora per degli strip LED. Per far questo, diciamo, iniziamo a capire un attimo come comportarci, ovviamente dovremmo ragionare in due momenti differenti, quindi una parte legata appunto al Nexion, dove noi realizzeremo la nostra interfaccia, quindi la parte di interfaccia grafica, dopodiché noi dovremo andare a far interagire il Nexion con Arduino, noi useremo un Arduino 1 R3, e cosa succede? Questo Arduino poi a sua volta andrà a pilotare una strip LED per riuscire a fare dei giochi di luce e quant'altro, Ok, quindi l'idea è quella, vedremo la prima parte della puntata, di andare appunto a realizzare l'interfaccia grafica, dopodiché vedremo la parte di programmazione, direttamente utilizzando in questo caso l'IDE di Arduino, la parte di cablaggio sarà abbastanza semplice, perché è uno strip LED, avremo solo tre cavetti di alimentazione, quindi 5V, IGND e poi il dato, diciamo, la parte dati che sarà legata a un PIN digitale, potremmo usare ad esempio il PINOTO. Diciamo che iniziamo subito sulla parte legata al Nexion, dobbiamo avere ben chiaro quello che è il progetto che vogliamo realizzare, e quindi non abbiamo tantissimo spazio, io ho a che fare con un display da 2,4 pollici, quindi, essendo lo spazio abbastanza poco, direi facciamo una parte, diciamo, più su, dove possiamo mettere ad esempio tre pulsanti, tre pulsanti per andare a pilotare in maniera statica praticamente la strip LED, quindi qua mettiamo ad esempio il rosso, il verde e il blu, ricordiamoci che lavoreremo in RGB. Una parte sotto per vedere magari dei giochi di luce, magari fissi, no? Possiamo guardare il video che ho girato sui giochi di luce con gli strip LED, può essere una versione, ad esempio, delle luci stroboscopiche, possiamo avere praticamente una corsa di LED, quindi un LED che si muove su un tappeto di LED colorate, oppure l'ultimo abbiamo fatto la simulazione con la luminosità della fiamma, praticamente. Oltre a questi pulsanti, ognuno dei quali farà scattare un evento all'interno di Arduino, io vorrei mettere magari un qualcosa legato alla luminosità, a seconda dell'ambiente, quindi mettere qua una barra di avanzamento, in modo tale, uno slider, in modo tale che è praticamente, se questa è la parte centrale, io mi sposterò a sinistra o a destra, per andare a variare tra 0 a 255 la luminosità del nostro dispositivo. Potremmo volendo mettere anche un numero qua, che ci indica quanto è il valore che stiamo misurando, insomma, cose di questo tipo. Questa, diciamo, rimane la foto di quello che io voglio realizzare, e quindi non ci resta che passare sul Nextion, sull'idea del Nextion, andare a creare subito un nuovo documento, ci chiede di salvarlo, quindi vogliamo richiamarlo video 5, perché è la quinta puntata. Quindi, come sempre, scegliamo il nostro modello di Nextion, di Home Basic, il più piccolo, 24 pollici, 320x240 in 3D pixel, scegliamo, quando ci chiede qua come vogliamo direzionare, praticamente, il nostro display, noi lo scegliamo, ad esempio, orizzontale, che ci permette di guadagnare un po' più di spazio, a questo punto, dando OK, possiamo già iniziare a lavorare. Su questa parte cerco di andare un po' più veloce, stiamo lavorando con un'unica pagina, pagina 0, dobbiamo andare a disporre, praticamente, gli elementi, che, vi ricordo, sono sicuramente 3 e 3, 6 pulsanti, più questa barra di avanzamento. Quindi, iniziamo a prenderci il primo pulsante, è un button, lo possiamo già dimensionare, ci viene dato abbastanza ingombrante per gli spazi che abbiamo a disposizione, quindi cerchiamo, magari, di dimensionarli in maniera opportuna. Cosa facciamo? Diamo tutte le caratteristiche e poi lo vedremo, praticamente, di replicare. Quindi, questo sarà, ad esempio, il button relativo al, il primo, abbiamo detto, il rosso, quindi, andiamo a vedere nelle sue proprietà, qua sulla destra, intanto, come si chiama, ha un nome che è B0, ci servirà poi per Arduino, ha un identificativo pari a 1, e poi, via via, altre proprietà, che ci dicono, ad esempio, che il suo testo, ecco, sarà, nel nostro caso, sarà rosso, quindi, andiamo a scrivere rosso. Ok, diamo invio. Altra cosa che ci può servire, facciamo questo pulsante rosso, visto che dovrà essere rosso. Ci dà, praticamente, due opzioni, quando è libero e quando è premuto, quindi, in particolare, noi, diciamo che, in condizioni normali, selezioniamo un colore che è rosso, abbastanza vivo, e invece, in background, quando viene premuto, scegliamo un colore, un colore sempre legato al rosso, quindi, andiamo sulla scala dei rossi, lo facciamo un po' più palido, quindi, ci prendiamo, ad esempio, questo. Ok, questo possiamo già provarlo nel debug, se vado a vedere il debug, ok, ah, non abbiamo caricato ancora il font, giustamente, non avendo messo il testo o quant'altro, anzi, abbiamo messo il testo, che è qua, la scritta rosso, quindi, che facciamo? Possiamo caricare un font da quelli già esistenti, quindi, seleziono da qua in basso, vedete, picture font, dal font ne aggiungiamo uno, io ho già creato un ZI, ma, in altri video, vedete, come facilmente lo possiamo creare, quindi, una volta che lui se lo importa, proviamo a lavorare sul debug, non ci dà degli errori, ecco qua il nostro pulsante, vedete che, quando non viene premuto, o quando viene premuto, cambia la sua tonalità di rosso, e quindi direi che questo ci va più bene. Bene, cosa deve fare questo, questo, bottone? Beh, semplicemente, dovrà dire chi è, quindi, dovrà, al momento in cui, io vado a premere il mio bottone, quindi, legato all'evento touch press, io vado a, 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 a mandare, praticamente, le sue credenziali, il suo ID, in modo tale che, ritorniamo ancora un attimo sulla parte di debug, mi sto soffermando questa cosa, ma spero che poi, diciamo, sia chiara per tutte le altre, per tutte le altre situazioni, quindi, quando io clicco sul bottone rosso, vedete che qua, questo parametro, 0, 0, 1, mi dice, esattamente, chi è che ha, inviato, tra virgolette, un segnale, quindi, Arduino, sarà capace di dire, ah, è stato premuto il busset rosso, 0, 0, invece, rappresenta la pagina, e vi faccio notare anche, F, 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 questi tre valori di F, poi ci ritorneranno utili, dovremo, inserirli, quando Arduino dovrà trasferire, verso l'externo dell'impasto, però, non andiamo troppo velocemente, chiudiamo questa parte qua, diciamo che il bottone rosso, va più che bene, adesso, semplicemente, con un CTRL C e CTRL V, lo posso duplicare, quindi, lo seleziono, CTRL C, CTRL V, vedete, ne ho creato uno del tutto uguale, che si chiama B1, ancora un bel CTRL V, c'è ancora memoria, e ne ho un altro, che si chiama B2, cerchiamo, in questo caso, di distribuirli maniera equa, e iniziamo a battezzarli, ovvero, se il primo si chiama, qua non ci sono delle linee di costruzione, se il primo si chiama rosso, il secondo, abbiamo detto, che sarà verde, quindi, il suo nome, quindi proprietà TXT, sarà, XT, eccolo qua, sarà verde, ok, anche lui, avrà le stesse caratteristiche, cioè, deve spedire il suo ID, quando sta funzionando, quando viene premuto, ma dovremo iniziare a cambiare i suoi colori, quindi, in questo caso, sarà, condizioni non premuto, un colore verde, diciamo, abbastanza pieno, e invece, quando viene premuto, andiamo a sceglierci un colore, che può essere, ad esempio, un verde un po' più pallido, possiamo dare questo, poi li proviamo, l'ultimo, sarà, quello legato al blu, anche qua, andiamo velocemente, non premuto, quindi, quello che compare, sarà un blu, prendiamo un blu, insomma, così, e invece, quando viene premuto, quindi, background color 2, vado a scegliere un colore un po' più palido, quindi, dalla linea di blu, posso prendere, che sono celeste, o via, una cosa di questo tipo, spero che poi si apprezzi la differenza, dobbiamo ancora battezzare il nostro pulsante, quindi andiamo a scrivere nella proprietà text, se la trovo, eccolo qua, non è più rosso, ma lui sarà un colore di tipo blu, ok, bene, la parte sopra l'abbiamo fatta, la parte sotto avremo ancora dei pulsanti, quindi cosa faccio, beh, semplicemente posso selezionare questi tre, ctrl c, ctrl v, duplicarli, posizionarli in maniera adeguata, dargli dei nomi, quindi in questo caso che faccio, posso dare qua un nome che può essere strobo, quindi questo, ah no, sono selezionato tutti e tre, scusate, quindi non prende la selezione, clicco fuori e riclicco sul rosso, ora sì che posso andare a cercare la mia XT, eccolo qua, quindi questa qua sarà una dice stroboscopica, e quindi va bene strobo, per quanto riguarda il verde, sarà invece abbiamo detto corsa, l'abbiamo tentato corsa, poi i nomi ovviamente voi sceglierete quelli che gli aggradano, per quanto riguarda blu, invece l'abbiamo chiamato fiamma, e via che possiamo cercare, per quanto riguarda strobo, beh, diamo ancora un colore, in modo tale che capiamo quando premiamo questo pulsante, quindi, boh, non lo so, non so che colore possa avere, perché qua abbiamo mono, monocolore, quindi boh, mettiamoci un violetto, no, non lo so, mentre per quanto riguarda corsa, lo mettiamo, lo mettiamo di colore arancio, ok, non si confonderà sicuramente con rosso, mentre fiamma, anche qua meriterebbe un bel rosso, ma possiamo, possiamo andare a dargli un colore, vediamo, un colore sul marron, ok, marron un po' più chiaro, ok, dovrebbero essere tre pulsanti differenti, bene, diciamo che avendo li replicati, in tutti i casi, ho messo praticamente che spediamo il valore del componente, quindi questo ci va bene, a questo punto andiamo sulla parte bassa, torniamo al grafico, qua dobbiamo avere un elemento che ci permette di selezionare la quantità di luminosità della mia strip lead, quindi ci rivolgiamo agli slider, quindi scegliamo uno slider, lo posizioniamo in basso in modo tale che abbia una certa corsa, possiamo dare in qualche modo qua, non possiamo scrivere all'interno, quindi andiamo a scriverci magari con una misella di testo, che cos'è, quindi mettiamo qua e scegliamo la proprietà text della mia casella di testo, questo lo chiamiamo ad esempio l'u-l-d-a, ok, posizioniamo a questo punto il mio slider in maniera più o meno carina, dopodiché cosa facciamo? intanto personalizziamolo, supponiamo che partano a un valore di 50, mi va bene, il massimo valore abbiamo, sappiamo che la luminosità con Arduino è codificata a 8 bit, quindi arriviamo a 255, e 0 sarà il valore minimo, quindi abbiamo 256 valori, e per quanto riguarda i colori, beh, siccome stiamo parlando di luminosità, io direi che possiamo andare verso dei livelli di grigio, quindi il nero sarà, scusate, il verde sarà la parte diciamo più alta, quindi quella luminosità è crescente, allora cerchiamo magari un valore di grigio molto chiaro, quindi se andiamo sul nero, ci prendiamo un valore di grigio chiaro, ok, mentre per quanto riguarda la parte iniziale, siccome la luminosità è bassa, dovremo andare su un livello sicuramente più legato al nero, quindi mettiamo un grigio, un grigio scuro, questo per non mettere nero, che è abbastanza duro, vediamo quello che abbiamo prodotto, sempre dalla parte del bug, ok, vedete quello che succede, io mi sposto, in teoria qua è un po' letto al contrario, nel senso sembra che la parte scura sta crescendo, ma voi invertite questi due colori, e lo risolviamo subito, quello che voglio fare, dice, ma a che luminosità sono, non riesco a leggerlo, quindi sarebbe magari carino, e poi chiudiamo la parte qua grafica, andare a prendere praticamente, un campo numero, number, lo mettiamo qua sotto, diciamo a ridosso, come intestazione del mio slider, e cosa faccio? in qualche modo, questo deve avere praticamente le informazioni, dovrà contenere le informazioni, che vengono fuori dalla selezione di H0, diciamo che volendo, volendolo fare, anche se poi lo faremo in maniera diversa, diremo che quando io vado a muovere col touch H0, voglio che n0.val prenda appunto il mio H0.val, ecco semplicemente sto dicendo questo, e nel caso del mio debug, mi dirà, ok la posizione iniziale non l'ho messa, però succederà, vedete che quando io vado ad avanzare con la varra, ogni volta che si muove, mi riporta praticamente il valore di l'inclusione. Diciamo che posso anche lasciarlo così, o posso prendere la risposta da Arduino, ma supponiamo di lasciarlo così, per noi va più che bene. Allora l'ultima cosa che vorrei fare, è vorrei magari eliminare lo sfondo bianco, per dare un minimo di interpretazione, un po' di particolarità al disegno, quindi cosa faccio? Seleziono in un punto vuoto, siamo su page 0, vedete, il background color, in questo caso è setato a bianco, ma posso ad esempio, decidere di dare uno sfondo, anche molto molto tenue, possiamo prendere, ho un verdino molto chiaro, giusto perché non si apre più bianco, poi se volete lasciarlo qui, ecco una cosa di questo tipo. Diciamo che in questo caso, se notate, luminosità e il mio numero, hanno un colore ancora di sfondo, che è bianco, questo potrebbe non piacermi, quindi in questo caso, vedete il background, posso mettere l'ultimo, che ho selezionato per lo sfondo, che mi rimane a disposizione, e quindi qua, metto questo. Bene, diciamo che da un punto di vista pratico, la nostra rappresentazione, praticamente sul lexion, è completa, non ci resta da fare altro, che andare a trasferire questo codice, vi consiglierei magari, di appuntarvi su un foglio, io lo tengo aperto, e ci possiamo saltare, da una parte all'altra, ma ricordarci che, b0 è per il rosso, b1 è per il verde, b2 è per il blu, b3 per lo strobo, e così via, h0 invece è il mio slider, e invece n0, vediamo se utilizzarlo o meno, rappresenta invece il numero, che rappresenta, che indica praticamente, il livello di numerosità. Quindi, detto questo, ok, salviamo tutto, dopodiché possiamo esportare il mio file, per esportarlo, e farlo leggere, diciamo al nextion, facciamo la prima, la prima, la prima, occorrenza qua, della cartella file, quindi tifti, questo ci fa scegliere, praticamente la destinazione, che supponiamo possa essere, boh, quella che mi dà, con output, vado poi a cercare, nella cartella dove l'ha salvato, e trasferisco tutto, sulla micro sd. Ancora una cosa, rapidissima, prima di passare al codice, io direi per il sicuro, per evitare problemi, di configurazione o altro, aggiungiamo, l'evento, touch release, anche nell'evento touch release, praticamente, la trasmissione, dell'id, un po' per tutti i componenti, e questo evita, che a volte ci siano problemi, perché, magari non, non prende il comando, quando vado a cliccare il bottone, lo mettiamo per tutti e due, e questo non, non guasta, altra cosa, che possiamo fare, è aggiungere, un timer, lo spiegheremo, in qualche altro video, ma intanto, per quanto riguarda, la sincronizzazione, noi, semplicemente, con un click, vedete, aggiungiamo un timer, che è, praticamente, disposto, già a 400 millisecondi, per la sincronizzazione, diciamo che, a questo punto, siamo operativi, quindi, da, praticamente, la parte del file, andiamo a tirar fuori, il file di output, come abbiamo visto prima, la mia cartella, è sempre la stessa, andiamo, semplicemente, trasferirlo, poi, sulla micro SD, andiamo adesso, a vedere, un attimo, il codice, il codice, l'ho già preparato, quindi, cerco di non annoiarvi tanto, discutiamo, magari, sulle parti, critiche, del codice, eccoci, sull'idea di arduino, e sono pronto a illustrarvi, il programma, che io ho già scritto, perché, per costruirlo assieme, ci vuole un po' di tempo, diciamo che, ve lo descrivo, a grandi linee, nel senso che, qua abbiamo la parte iniziale, praticamente, con la dichiarazione, delle due librerie, la next on h, che è quella che ci, ci permette l'interfacciamento, con il mio display, la fast led, che è quella che ci permette, di gestire le street led, in particolare, io sto utilizzando, il pin 8, come il pin di pilotaggio, ok, questo è il pilotaggio, da arduino, il numero di led, quindi la mia strip led, è formata da 15 led, poi vedremo, magari, se avanza tempo nel video, vi faccio vedere, come fare, a utilizzare lo stesso codice, su una strip led, alimentata magari esternamente, a 5 volt, c'è uno strip, di magari 200 led, ecco, cambia abbastanza poco, allora, che ci fa, in questo caso, dichiariamo un array, chiamato led, pari a una dimensione, per il numero di led, che abbiamo, da considerare, quindi, c'è una fase di dichiarazione, praticamente, dei vari elementini, come funziona la dichiarazione, prendiamola per uno, questa è la dichiarazione, ad esempio, del pulsante, rosso, quindi, che succede, definiamo un oggetto, next button, gli diamo un nome, io ho messo la B, per indicare che è un button, quindi button rosso, e questa è la parte dichiarativa, c'è la parte anche di distanza, che ci dice, next button, con le sue caratteristiche, quindi, vi ricordo che 0 è il nome della pagina, quindi, scriviamola qua, io definisco prima la pagina, quindi, il numero, che ha l'identificativo, e poi, invece, il terzo parametro, sarà il nome, che ha l'elemento, il nome, che ha l'elemento, quindi, con questi tre parametri, che sono la pagina, il numero, e il nome, io identifico univocamente, l'azione, anzi, il mio bottone, questo lo farò, ovviamente, per tutti gli altri bottoni, ne ho altri cinque, quindi, che ho battezzato in questo modo, quindi, verde, blu, per avere, i primi tre, quindi, definiscono semplicemente, gli RGB, poi abbiamo, la parte strobo, dove vedremo di alternare, un gioco di luce, dove compaiono, appunto, diverse tonalità di colore, corsa, che è quello relativo, ad un LED, che si muove, su un, diciamo, un tappeto di altri LED, è quello, che invece, ho chiamato fiamma, che va a ricordare, appunto, l'alone, che crea la fiamma, di un cammino, ecco, molto, molto a fantasia, però, e poi, abbiamo invece, lo slider, lo slider, è un oggetto diverso dal button, vedete, lo dichiariamo come next slider, io l'ho chiamato luminos, per non avere luminosità, no, troppo lungo, e poi, con gli caratteri speciali, a volte, si creano dei, dei pasticci, e qua abbiamo, invece, il, ho messo S, per identificare, che non è un button, ma, appunto, è uno slider, anche qua, stessa filosofia, cioè, il numero di pagina, il numero, il numero di pagina, che è zero, un'unica pagina, a sette, e invece, il numero identificativo, dell'elemento, che ha zero, il suono. Allora, cosa succede? Si deve definire, siamo sempre fuori dal setup, nella parte di definizione, si deve definire una lista di oggetti, new listen, listen, perché noi rimaniamo sempre in ascolto, su questa lista, che è la lista degli eventi touch, vedete, ho aggiunto semplicemente, l'e-commerciale, associato al bottone rosso, e-commerciale, b-rosso, b-rosso, vi ricordo, abbiamo qua, vedete, il button rosso, e così via, per tutti quanti, dobbiamo ricordarci semplicemente, che devo passare null, come ultimo elemento della lista, quindi in questo caso, avrò sei pulsanti, più lo slider, e quindi avrò sei elementi qua, più lo slider, più il campo null. Detto questo, andiamo avanti velocemente, a vedere il codice, queste sono delle prove, che ho fatto, che quindi non ci interessano, semplifichiamoci un minimo il codice, io sto usando la libreria FastLED, vi ricordo che è stata dichiarata, qua su in alto, lo vedete, FastLED ha bisogno di alcuni parametri, tra cui definire il tipo di stripLED, nel nostro caso, la WS2812B, LED PIN rappresenta il numero di, scusate, LED PIN rappresenta il pin, che io ho associato al pilotaggio, quindi nel nostro caso, al posto di scrivere 8, verrete, l'ho dichiarato qua, perché lo posso cambiare, si cambia poi in tutto il circuito, in tutto il listato, GRB, perché c'è l'inconveniente, vi ho detto, per questi stripLED, invece di essere degli RGB, G ed R, sono semplicemente invertiti, e se vedete il video, praticamente la prima parte, dei giochi di luce, vi accorgerete, che usando ad esempio, DimeBlock, io andavo a pilotare il rosso, in realtà azionava il verde, e viceversa, perché sono semplicemente invertiti, come comando, come pilotaggio, quindi questa libreria, cosa fa? Fa riferimento al nostro array di LED, è la dimensione NUMLEDDATE, quindi andiamo magari, un po' più velocemente, abbiamo la definizione, di una porta seriale, vi ricordo che il BOUD RATE, per quanto riguarda il NEC, è nel 2006, ok? Dopodichè vado a settare, una certa luminosità, la metto il default nel setup, poi la modificherò, in corso d'opera, P-MOD possiamo anche, tranquillamente toglierlo, P-MOD cosa fa? Seleziona il PIN 13, per fare delle prove, se sta funzionando o meno il circuito, ok? Una parte che io ho già fatto, è molto importante il NEXT INIT, questa qua è praticamente, l'inizializzazione del display, ok? Quindi questa è l'assoluta, di tutti i componenti del display, l'ultima parte del setup, è una parte, diciamo, molto molto meccanica da fare, semplicemente si prende il B rosso, cos'è il B rosso, è quello che abbiamo definito, quassù, il bottone, e prendiamo una proprietà, anzi un metodo direi, che è la touch pop, questo ce lo regala la libreria, dove mi dice, che tutte le volte che viene premuto, praticamente, il bottone rosso, io vado a lanciare, Bt rosso, cos'è Bt rosso? Ce lo scriviamo qua, per uno, va bene, Bt rosso è un metodo che identifica l'azione che deve fare il mio pulsante, quindi metteremo qua del codice, questa sarà da costruire, questa procedura, questo metodo, e queste due sono legate attraverso che cosa? Attraverso il riferimento, ce la è commerciale, di B rosso, quindi quando lui praticamente, trova la pressione di B rosso, del touch di B rosso, che fa parte della lista dei touch, allora va a scatenare l'esecuzione di una procedura, di un metodo che si chiama Bt rosso, e questo in particolare serve, viene gestito da tutti i componenti touch, ok? Dopodiché cosa facciamo? Io qua dichiaro due variabili globali, qua ci possiamo scrivere un commento, queste sono delle variabili globali, che esistono per tutto l'esecuzione del programma, una si chiama scelta, che cosa va a identificare? Identifica la scelta a seconda del pulsante premuto, ok? Invece luce è quello che io utilizzerò per la luminosità in condizioni di funzionamento. Dopodiché, molto molto semplicemente, abbiamo il loop, cioè le restrizioni che si ripetono, questa next loop è praticamente quella classica del nextion, ovvero io ripeto all'infinito, in teoria secondo il loop, l'ascolto, il listen, della mia lista di componenti touch. Appena qualcuno durante l'ascolto, in qualche modo cambia, interviene, è stato premuto, tradotto, allora praticamente viene scatenata questa associazione qua. Io cosa uso? Uso uno switch case in questo caso, che cos'è? Un if multiple lo switch case, possiamo mettere qua un commento, è un if multiple, perché io ho identificato i vari casi associati ai bottoni con dei numeri, quindi ad esempio case 1 per me è quando ho premuto il bottone 1, cosa succederà? Adesso li andiamo a vedere, quindi case 1 quando premo il bottone 1, poi ci sarà, vedete qua, il case 2, questo è indentato un po', indentato un po' da far ridere, però posso pensare ad esempio di spostarlo, così capiamo, questo è il case 1, il case 2 è abbastanza simile, lo indento così, il 3 stessa cosa, perché sarà uguale, il 4 inizia ad essere un po' più corposo, anche questo lo vado a indentare un attimo, cercherò di non spiegarvelo troppo in dettaglio, case 6, ah qua si, lo invertiti, qua c'è case 6 prima e case 5 dopo, ma l'ordine tanto nel switch case non è importante. Allora andiamo a vedere cosa succede, prima di tutto il case 1, quando c'è l'ho il case 1, beh andiamo sotto a vedere, il case 1 viene scatenato quando, quando premo praticamente vedete il bt rosso, col bt rosso io setto la variabile globale scelta a1, quando invece premo verde metto scelta a2, quando premo blu metto scelta a3, scelta 4 per lo strobo, corsa scelta 5, fiamma scelta 6. Invece per l'ultimo, che è quello sulla luminosità, quello dello slider, non metto una variabile, ma lo faccio cambiare in runtime, cioè durante la condizione di lavoro, vado a leggere praticamente il valore della mia variabile, luminos, essel luminos, prende il valore, dà il valore praticamente alla variabile valore che ho descritto qua all'interno. Ok? Cosa faccio poi di questo valore? Beh lo do alla variabile globale luce, e in più cosa faccio? Setto la luminosità del mio display praticamente al valore di luce, quindi se la barra segna che so 100, allora la luminosità sarà pari a 100. Vi ricordo che è codificato 8 bit da 0 a 2. E' importante poi ricordarci sempre di mettere l'istruzione FastLEDShow per mostrare direttamente sul mio stripLED quello che sta succedendo. Ok? E qua finisce. Velocemente cosa faccio nei vari case? Beh nel case 1, ma semplicemente qua ho un ciclo per i che va da 0 al numero di led, quindi scorro tutti i led, e sto impostando per ogni iesimo elemento, quindi i varra 0, 1, 2, così via, sino al num led che è 15 per noi, la componente R è pari a 2, 5, 5, la componente green, quindi verde a 0, e blu a 0. Quindi praticamente qua io ho tutti e 15 i led rossi e poi li mostro. Nel case 2 cosa faccio? E' associato al bottone verde, stessa cosa, metto la componente green a 2, 5, 5, e rosso e blu a 0, quindi in questo caso tutti e 15 i led saranno verdi. Nel terzo caso faccio la stessa cosa sul blu, e mentre green e red sono a 0, quindi in questo caso illumino tutti e 15 i led di blu. Case 4, qua diventa un po' più complicato. Questa è una parte strobo, quindi cosa succede? Vedete che faccio sempre un for, ragiono praticamente sull'iesimo elemento, quindi in questo caso, vedete, faccio tutti i led blu, e mostro il colore blu. Con un ritardo molto piccolo, qua stiamo parlando di 50 millisecondi, cosa faccio? Rifaccio tutta la colorazione dei led, qua possiamo mettere anche 0 sul blu, e li metto tutti i verdi. Terzo caso cosa faccio? Quindi ancora una volta poi li mostro, e aspetto i 50 millisecondi. Poi nel terzo caso faccio ancora lo scorrimento di tutti, poi è rimasto ancora 2, mettiamo 0, e metto rosso. Quindi diciamo che quando io selezionerò il valore 4, quindi associato al button che vi ricordo essere, dove l'ho messo qua, il button 4 è strobo, allora cosa succederà? Verranno alternati questi colori in maniera molto molto rapida, ogni variazione, faccio vedere la strip lane. Andiamo velocemente al caso 6, caso 6 che cos'è? È quello associato alla fiamma, quindi in questo caso cosa faccio? Potete capirlo magari con un po' più di dettaglio, andando a vedere il video su giochi di luce che ho messo. Io vado a scegliere la luminosità in maniera del tutto casuale, quindi un numero casuale che viene tirato fuori automaticamente tra 50 e 250, e allora siccome la fiamma è rossa, setto tutti i led rossi, e dopodiché mostro quello che sta succedendo. Questo quando viene ripetuto durante il lupo, ogni volta che esegui questo passaggio, la luminosità cambierà in maniera del tutto casuale, e quindi ci darà questo effetto di comparsa e scomparsa della luce. L'ultimo caso, ma in realtà il penultimo, perché poi è associato al corsa, questo è un po' più delicato, cosa devo fare in questo corsa? Beh, diciamo che genero i colori in maniera casuale, da 0 a 255. Scelgo, illumino o meglio, tutti i led del colore casuale, tutti i led dello stesso colore. Poi cosa faccio? Faccio un ciclo per cui un led, che è l'iesimo led, viene spento, vedete che c'ha B0, G0, R0, quindi blu, green, red, sono posti a 0. Cosa succede? Io questo gli metto un piccolo ritardo, quindi cosa succede? Che mentre gli altri sotto sono tutti accesi di un colore casuale, questo led iesimo, durante il ciclo, quindi si sposterà avanti e indietro, di colore nero. L'unica cosa che devo fare, è che una volta che passa, diciamo, il led si sta spostando, quello che precedentemente era nero, lo devo rimettere alla situazione dei numeri casuali, rosso, verde e blu, che ho generato. Ma è più facile vederlo spiegato che così, magari vi spaventate. Questo sarà un ciclo che va per i uguali a 0 al numero di led, e poi avrò un ciclo che fa esattamente il contrario, cioè va da numero di led, cambiamo la condizione, invece di essere minore diventa maggiore o uguali a 0, e i meno meno, va a decrementare perché sta tornando indietro, praticamente, il mio led nero, e la logica è esattamente la stessa, quindi spengo il led iesimo, ma quello precedente, che questa volta è l'Ib1, lo rimetto alla situazione iniziale. Mostro ancora tutto, man mano che si sta svolgendo, quindi vedo l'avanzamento del singolo led, e poi faccio un delay. Delay di 15 millisecondi, ok? Bene, detto questo, non ci resta che caricare tutto su Arduino, prima di caricarlo, vi ricordo, dovete staccare il piedino 0 RX di Arduino, che è associato al cavetto blu del Nexion, perché sta impegnando la porta seriale, e quindi io devo usare la seriale di trasferimento USB, piuttosto che la seriale di Arduino. Detto questo, io direi, vado a collegare, stacco il mio cavetto, collego Arduino, e così ci possiamo trasferire, per vedere che cosa sta succedendo. Quindi vado a verificare, intanto che la strumenti sia collegato Arduino 1 sulla COM 5, direi che l'ha preso, a questo punto trasferiamo il codice, se vi da un errore, perché vi siete dimenticati di staccare il cavetto, altrimenti non dovrebbe dare nessun tipo di errore. Vediamo se il caricamento va a buon fine, direi che il caricamento è completato, ci possiamo spostare adesso sul cellulare, e vedere un po' quello che abbiamo creato. Eccoci qua, pronti alla nostra installazione, quindi abbiamo tutto trasferito sulla microSD, che facciamo? Semplicemente andiamo a inserire la microSD, qua di lato dove c'è il nostro lettore, quindi si infila, ovviamente al dispositivo spento, è già collegato con Arduino, poi vi faccio vedere la parte di cablaggio, quindi quando io vado a inserire, praticamente l'alimentazione, vedete, trova che c'è un eseguibile, qui nella nostra immagine, vedete quando arriva il 100%, praticamente ci dice che l'update è stato fatto con successo, posso staccare l'alimentazione di Arduino, andare a estrarre la mia microSD, e a questo punto, come riavviamo, vedete subito che il mio display, che abbiamo creato prima con l'interfaccia, è a posto. Come collegamenti, quindi abbiamo i quattro cavetti che escono dal Nexion, due sono di alimentazione positivo e negativo, dopo di che ci sono gli altri due, che vanno rispettivamente il piedino, il filo, il cavo azzurro, sul piedino zero di Arduino, quindi TX con RX, e viceversa RX con TX, e quindi il piedino giallo va sul piedino uno. Detto questo, il codice io l'avevo già scaricato, già mandato su Arduino, quindi cosa faccio? metto in evidenza intanto la strip LED, che sarà la protagonista praticamente nel nostro video, spero che si stabilizzi, così riusciamo magari a vedere quello che sto facendo, prendiamo anche una battuta, che mi servirà per la selezione dei comandi, a questo punto posso già andare ad attaccare l'alimentazione dello strip LED, vedete che lui è già partito, perché nel codice ho messo che la nostra variabile scelta partiva magari da 5. Allora, cosa facciamo? Andiamo a provare i vari pulsanti, spero che si apprezzi, tra l'altro ho costruito con la stampante 3D una scatola per andare a posizionare Nextion, quindi avete la possibilità, ci sono gli STL già pronti sulla libreria, vedete si stampa con la stampante 3D, e abbiamo solo lo spazio di azione, devo fissarlo con delle viti, questo non l'ho ancora fatto. Ok, detto questo, Allora, iniziamo a capire come funziona il nostro display, quindi andiamo a scegliere i pulsanti, vedete qua c'è pulsante verde, se clicco su verde vedete che la striscia rimane verde, su rosso passa rosso, su blu diventa blu, e questi sono dei valori, approfittando della barra della luminosità, vedete posso andare a gestire, questa è la luminosità praticamente massima, 2,48, come diminuisco la luminosità, posso arrivare anche a 0, è tutto spento, che la luminosità 0 non fa vedere niente, però è abbastanza carino vedere il gioco, che si può fare a seconda della situazione. Detto questo, ovviamente questo vale un po' per tutti, per tutte le configurazioni, compresa quella rossa, vedete, ok, detto questo, sicuramente i pulsanti più interessanti, sono quelli che stanno qua in basso, c'è una parte stroboscopica, quindi iniziamo a cliccare su questo, vedete cosa sta succedendo, lui ci sta dando del colore, quindi in maniera molto molto veloce, sta cambiando i colori, io ho messo ancora una volta, rosso, verde, blu, che si stanno alternando, ma voi potete usare un miscuglio di colori, anche più tonalità, che si alternano, anche 4 o 5 coloni, che vengono ripetuti loop, anche qua vi faccio notare, che entra in gioco la luminosità, ok, diventa anche insomma, abbastanza fastidioso da vedere, adesso non so come verrà nel video, però questa luminosità bassa, ed è più facile da vedere, andiamo all'altro pulsante, c'è il pulsante corsa, andiamo a selezionarlo, ok, ecco vedete cosa succede, viene generato un colore di sfondo casuale, ogni volta che, diciamo, il mio cursore, smette di muoversi, l'azione del mio cursore, sarà quella di nascere qua, arrivare al fondo, e poi con l'altro, col terzo ciclo, torna indietro decrementando, e questo effetto, è un effetto molto carino, posso scegliere la velocità, in questo caso, abbiamo messo, se non ricordo male, 15 millisecondi, posso renderla più veloce, o anche più lenta, questo dipende da noi, ancora una volta qua, andiamo sulla luminosità, vedete che, quando la luminosità diventa importante, a seconda del colore, che lui mi crea, l'effetto è sicuramente molto carino, l'ultima parte, che ci manca da verificare, questa parte di fiamma, dove fiamma, magari così, non si apprezza, granché, però, se io dovessi mettere, ad esempio, un foglio di carta sopra, magari anche non poggiato, vedete come, l'intensità, il brightness, il contrasto, tende a cambiare, e quindi, se vado, magari non guardate la luce direttamente, ma guardate, l'effetto che fa, la riflessione della luce, anche su questo pannello bianco, dà l'idea quasi, di una fiamma, che si attenua, oppure poi diventa, ancora importante, diciamo che, ovviamente, su quest'ultimo pulsante, non ha senso lavorare, sul contrasto, sulla luminosità, ma per il semplice motivo, che la luminosità, viene generata, come abbiamo visto da codice, in maniera casuale, tra un valore da 0 a 2,5,5, quindi, non ha senso cambiare, invece, per tutti gli altri, lo rivediamo, magari, anche qua, un po' coperto, vedete che, lavoriamo sulla luminosità, forse conviene qua, così come, la parte stroboscopica, anche qua, forse conviene aumentare, di luminosità, oppure, i colori singoli, che sono il blu, il verde, e il rosso, posso interrompere un attimo, proviamo a collegare, magari, uno strip led, e vediamo che, gli stessi effetti, ovviamente, modificando opportunamente, il codice, li posso fare, su una bobina, quindi, non solo su 15 led, come in questo caso, ma su più led, però, ho bisogno di un alimentatore esterno, allora, in questo caso, utilizziamo un alimentatore esterno, un alimentatore da 5 volt, 8 ampere, quindi, capace di supportare, insomma, più di 200 led, ok, cosa succede? Questo alimentatore, mi darà, i 5 volt, e la massa, quindi, posso usare, ad esempio, una breadboard di appoggio, dove metto, ad esempio, adesso spero di non fare danni, i 5 volt sulla striscia orizzontale, che è quella rossa, la massa sulla striscia nera, ok, e questo, lo utilizzerò come alimentazione, per andare a pilotare, questa, questa strip led, ok, quindi, intanto stacco quest'altra, che non ci serve, 1, 2, e 3, ok, quindi, questa da 15 led, non ci serve più, mettiamo, diciamo, quella un po' più robusta, qua ci sono, penso, sembra 200 led, sono, insomma, 4 metri e mezzo, allora, in questo caso, riguardo la piedinatura, quindi, 5 volt il cavetto blu, vado a mettere, nei 5 volt qua, della breadboard, bianco blu, in questo caso, sarà il GND, scusate, 5 volt sono questi in rosso, ok, sulla striscia rossa, invece, il GND lo mettiamo sulla striscia nera, e questo sarà, invece, la parte di pilotaggio, che la vado a mettere, direttamente, sul pin 8 di Arduino, che sarà quello, appunto, ripeto, di pilotaggio, è buona accortezza, ricordarsi di mettere, la massa, diciamo, della mia alimentazione, anche, in corrispondenza, della massa di Arduino, quindi, ricordatevi, che il negativo, sia dello strip led, che dell'alimentatore, che di Arduino, devono essere messi assieme, quindi, andiamo a prenderci, il GND, ora, posso alimentare, ovviamente, il mio alimentatore, dalla presa di corrente, e, ovviamente, devo andare, adesso, a ritoccare un attimo, il codice, per dire, tutto quello che deve succedere, quindi, ci spostiamo un attimo sul computer, vediamo il codice, e poi, vediamo di far funzionare, lo strip led, eccoci qua sul codice, quindi, facciamo velocemente, le variazioni, che ci siamo detti prima, quindi, il numero di led, non è più 15, lo teniamo in sospeso, questo valore, ma, supponiamo che da noi, ce ne siano ad esempio, 200, poi vedremo, quello che succede, il led, il pin di plotaggio di led, è sempre il numero 8, e mi va benissimo, si adatta tutto perfettamente, se non fosse, ad esempio, nella parte della corsa, quindi siamo legati al case 5, in questo caso, quindi scendiamo ancora, l'ultimo è questo, il case 5, ok, dove dobbiamo, in qualche modo, siccome la strip led è più lunga, andare a diminuire questo tempo, quindi, non più un delay di 15, quindi mi scrivo magari, che era 15 quello che funzionava, ma noi mettiamo ad esempio, un delay di 5 millisecondi, perché altrimenti, la striscia, cioè, deve percorrere, il led deve percorrere più, parti di striscia, quindi, ci mettiamo qua, stavo dicendo, 15, e qua ci mettiamo invece, solo 5 millisecondi, ok, Arduino è collegato, stacco il cavetto 0, ancora una volta, do il programma, eccoci qua sul cellulare, vedete che la mia bobina, tutta a volta, è di colore rosso, in questo caso, allora, andiamo nuovamente, ad azionare, ho perso intanto, la matita, andiamo ad azionare i vari pulsanti, quindi, red era quello che aveva inizialmente, andiamo a cliccare sul button verde, vedete che la bobina diventa tutta verde, qua è un po' girata, ma penso che si apprezzi, oppure la parte blu, invece i pulsanti, quindi cambia ancora luminosità, certo, possiamo ancora agire sulla luminosità, come abbiamo visto anche nel, diciamo con pochi led, ci sarà poi, aumentiamola un po', la parte stroboscopica, quindi seleziono il pulsante stroboscopico, vedete come cambia tutta la bobina, adesso non sto a srotolarla, per problemi di zoom, abbiamo ancora la parte legata alla corsa, dove in questo caso, vedete come sembra arrotolarsi, e poi srotolarsi il led nero, ok, quindi questa è la velocità, io ho messo 5 millisecondi, se lo volete fare andare più piano, semplicemente andate a lavorare, su quel parametro che abbiamo visto, però è un gioco abbastanza carino e divertente, da qua è possibile notare, ogni volta che lui ritorna qua e riparte, il colore di sfondo viene generato, in maniera automatica, anche qua possiamo agire ovviamente, sulla luminosità, fino a qua, lo mettiamola, diciamo al massimo, va bene, ultima parte, la parte fiamma, quindi selezioniamo, adesso sta ancora andando in giro, ok, ah ok, ha preso adesso la parte fiamma, dove, continuo a dirvi, vediamola con qualcosa sotto, qualcosa sopra, perdono, e vedete che ci dà un riverbero, sistemando bene i led, insomma otteniamo qualcosa di abbastanza carino, ok, direi che per questo video è tutto, abbiamo realizzato la console di pilotaggio, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!